Salve belli, benvenuti a un nuovo video. Finalmente siamo tornati in palestra, tutto allestito per la quarantena, tutto diverso. Strano, strano, però l'importante è allenarsi e continuare ad allenarsi soprattutto, quindi non perdiamo altro tempo perché oggi la programmazione è bella lunga e iniziamo subito con un po' di mobilità. There you go again, looking so handsome, oh you have your way, and it's making me weaken, you and your starters, walking like that, it's really getting too much, but I can't pull back, though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do, and no one sets my body on fire, and no one gives me shivers like you, oh no one does it better. Allora, parte di mobilità, attivazione, sono già sudato. Adesso facciamo il general warm up, faccio vedere qualcosa e poi direi che si può iniziare subito. But you're pulling me closer, oh I've got to stay away, but you won't let me, and no one makes me feel like you do, and no one sets my body on fire, and no one gives me shivers like you, oh no one does it better. Allora ragazzi, iniziamo con l'hang power clean, 15 ripetizioni ogni 2 minuti per 6 minuti e 50 kg, e poi stesso lavoro con 56 kg. E comunque è un lavoro che stanno mandando avanti da diverse settimane, 15 ripetizioni una prima volta, quindi vediamo se riusciamo a reggere più che altro. Iniziamo va, adesso mi scaldo e iniziamo. Io, I'm done with the fuck creep, even though you don't like me, you smile in my face and spud me. Just see if you feel comfy, no fama ain't cushy, I'm close to the edge, don't push me. I'm older, I'm wise, I'm a general like D-double and footsy, new to the game, you man are all rookies, no time for the petty beam. With my eyes on revenue streams, just see I gotta do my thing, next see I gotta bring the whole team. Just first wheel and WD car, nothing was easy, never had a silver spoon, I grew up in the hands where it's crazy. I've been about, yeah man I've been around, I've been the talk of the town. Penso di aver li retti abbastanza bene, anche perché non ho faticato molto, ho ovviamente di dolore alle gambe, però quello sempre. Adesso lo stesso con 56 kg, quindi vediamo se la situazione migliora, sarà dura, però bisogna farla peggiorare meno. I've been the talk of the town, yeah I've been showin' out, and if you, think you can fuck with me, then it's game over. Tosta raga, porca puttana, 15 rap in 2 minuti sono tante, cioè più che altro è meno il rap, vabbè, tosta. Ho le gambe a pezzi, adesso riposo un po', e inizio quel lavoro sulla kettlebell. Allora diciamo che il lavoro con la kettlebell poteva andare meglio, però raga la kettlebell è difficile da usare, infatti devo fare qualche personal, comunque qualcosa per imparare a usarla al meglio, se no mi spezzo l'avambraccio. Comunque, allora, adesso ho un wood, una mazzata, che vi scrivo qui. Sono tre round e due minuti di rest ogni round. Cerco di farvi un'inquadratura dove si veda il più possibile tutto, anche se dovrò muovermi troppo, però adesso vediamo. Ciao! 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 You're looking at food, you're looking at food Find your comfort from another, yeah I go low like undercover, yeah Wanna know my name You can't even guess me, cause I ain't baby High roll, watch you there, not like maybe 7-11, welcome to my palace You just keep on wondering, you just keep on wondering You just keep on wondering, but it's your memory I just pop a bin, Danny, how you been? I'm going to go, Boeing 747, I get weak Get ready, like I wanna get late 준비해 빨리, we ain't got a lot of time, man We'll be nice, Jameson hit the rock bottom 잃어버린 정신 머리들, yeah, I got him Yeah, I shot him, 모든 problems 언제까지 기다려야 할래, now, God Allora, ragazzi, ci ho messo un bel po' a riprendermi, perché non riuscivo neanche per respirare Purtroppo, come avete visto, sti cazzo di pull up vengono una merda, perché appare che mi sono un pelo aperto Ma perché non ho... non si può essere la magnesite, non mi sono portato i paracagli e quindi scivolavo Infatti l'ultimo set ho fatto 3, 2, 3, 2, una merda, però vabbè, dai, è importante che piano piano si ritorna alla sbaglia Adesso ultimo lavoro sul raw, ho dei tot di watt da seguire 30 secondi lavoro, 90 secondi rest per 8 round e poi si può un po' riposare Ah, eh, 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 eh Ah, eh, eh. Signori, dopo 2 ore e 43 minuti Abbiamo finito la programmazione di oggi Anzi, in realtà In realtà non l'abbiamo neanche finito Perché manca anche Manca ancora tutta la parte di stretching E allungamenti vari Minchia Ci vorranno 3 ore, 3 ore e un quarto Per finire tutta la programmazione di oggi Cazzo, si è già graffiato qua Vabbè, comunque direi di chiudere qua il video Perché sennò si dilunga troppo Quindi ragazzi Oggi abbiamo visto tutta la programmazione di oggi Vabbè, tranne lo stretching però Andate un po' immaginazione Ovvio non vi ho fatto vedere tutto, tutto, tutto Perché sennò, vabbè Troppo E basta Quindi da oggi Anzi da ieri Comunque oggi, vabbè Programmazione così lunga Perché avevo tempo Essendo il 2 giugno Oggi non lavorando Avevo tutto il tempo a disposizione In settimana Mentre lavoro Sarà un po' più duro Infatti Dovrò organizzarmi al meglio Però Vedremo passo passo Come andranno le cose E basta Mi sento Mi sento migliorato Però vabbè Lo vedremo Là c'è un'app E ho paura Devo fidere in fretta il video Il miglioramento Lo vedremo in queste prossime settimane E mi direte anche voi E basta Ragazzi Grazie di essere arrivati fin qua Ci vediamo in un prossimo video Ricordatevi di iscrivervi al canale Attivare la campanellina Seguirmi su Instagram E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao belli